Andrea Scalera, a 37 anni, ha perso la vita in mare nel 2013, mentre faceva kitesurf. Dopo le veleggiate per ricordare il giovane amante del mare nel 2014 e nel 2015, il Centro Universitario Sportivo ha condiviso con la famiglia di Andrea la volontà di strutturare l'evento con una doppia finalità, agonistica, istituendo il trofeo, e sociale tramite una raccolta fondi in favore di emergency. Quest'anno, con i fondi raccolti, sarà acquistato un generatore elettrico che andrà ad alimentare il nuovo progetto mobile, Healthbox. Il progetto Healthbox, ha spiegato Giuseppe Seccia, presidente del CUSBARI, presentato alla quindicesima biennale di architettura di Venezia, è un'unità mobile che verrà impiegata nelle situazioni tipiche dei mezzi mobili, quindi periferie, disastri naturali, sbarchi e centri di accoglienza. Sullo specchio d'acqua tra Bari e Torre a Mare, le imbarcazioni delle classi Orc, Libera e Multiscafo si sono sfidate con sano agonismo. Il trofeo Andrea Scalera, Libera Emergency Overall Real Time, è stato conquistato a Giuseppe Chiaravolo, con l'imbarcazione Obelix del CUSBARI. A Natale, Lattanzi, con l'imbarcazione Dezzamore del Circolo Velico Onda Buena, è andato il trofeo Challenge Prima Edizione Andrea Scalera. Numerose le coppe consegnate per le varie categorie dal vicepresidente del CUSBARI, Beppe Angiuli, e dal presidente della Federazione Italiana Vera Regionale Pugliese, Alberto Lategola. La regata, ha spiegato Giacomo, papà di Andrea, è uno dei tanti modi per tenere la bellezza di Andrea costantemente vicina a noi, nel suo mare, tra i suoi amici.